Rebecki Normeccanica raggiunge sul filo di lana l'accesso ai play-off, classificandosi quarta nel girone A. Dopo il primo ostacolo, vale a dire battere il Novara per 2-0, ha dovuto attendere 24 ore per conoscere i risultati delle altre due contendenti ai play-off, Collecchio e Senago. Se il primo conquista due vittorie, la squadra milanese non va oltre il pareggio, consegnando ai piacentini l'accesso ufficiale alla seconda fase del campionato. Bollate, Sala Baganza, Collecchio e Rebecki Normeccanica passano ai play-off, che inizieranno il prossimo fine settimana. Sono 12 le squadre ammesse, 4 per ogni girone, suddivise in due gironi a 6 squadre ciascuno, con partite 2 di sola andata. Le prime due classificate di ogni girone disputeranno le semifinali, al meglio delle tre partite, il 13 settembre, mentre le finali, al meglio delle 5 partite, si giocheranno il 20 settembre. Tornando alla partita di sabato contro Novara, Rebecki Normeccanica ha saputo imporsi in gara 1 per 5-0. Nonostante il maltempo, la squadra piacentina si esibisce in una serie di giocate spettacolari che culminano con la presa al volo in tuffo del terza base Luca Riccò. In vantaggio per 2-0 dopo appena due inning, i bianco-rossi sfruttano il miglior attacco e aggiungono altri tre punti, chiudendo il match senza subire alcun punto. In gara 2 il team di coach Marenghi tiene a bada le mazze avversarie senza alcuna fatica. Poi al sesto inning si porta sul 4-0, grazie anche alle ottime prestazioni in battuta di Carini e Cetti. Una degna chiusura per Piacenza, che nonostante la stagione alcalenante ha saputo recuperare e aggiudicarsi meritatamente l'accesso alla seconda fase di campionato, come ci conferma l'allenatore Gianluca Marenghi. Mi è piaciuta molto la squadra, ha vissuto bene il momento difficile, ha vissuto bene il momento in cui la fortuna non girava e è stata brava a rimanere lì, lavorare duro e crederci e questo ci ha premiato poi alla fine con domenica. Quando si gioca con le squadre diciamo che sono al nostro livello non è facile lasciare per strada alcuni punti se non alcune situazioni dove bisogna concretizzare. Questo sarà secondo me la chiave di volta poi dei nostri play-off. Non sarà facile, però sono contento nel senso che i miei ragazzi avranno la possibilità di confermarsi ai livelli cui credo sono arrivati. Quest'anno era il primo anno dove dovevano meritarsi di giocare perché non c'era nessuna regola che gli diceva di giocare a tutti i costi, quindi sono stati bravi e penso che il discorso dei play-off dovrà renderli più maturi.